Salvaguardia del Tribunale di Arezzano, prosegue la mobilitazione degli avvocati. In sicurezza le gole di Celano, lo ha deciso la Regione con un atto tecnico-amministrativo. Campagna di sensibilizzazione sull'Ictus è stato presentato oggi nel corso di una conferenza stampa. La lingua francese unisce gli allunni, progetto del liceo di Arezzano per studenti italiani, spagnoli e tedeschi. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Continua la mobilitazione degli avvocati marsicani per salvaguardare il Tribunale di Arezzano. Dopo l'iniziativa dei sindaci, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni con delle delibere da parte delle amministrazioni di tutta la Marsica, in cui c'è l'impegno a sobbarcarsi delle spese di mantenimento al posto dello Stato centrale, l'ordine degli avvocati continua la mobilitazione. Siamo stati a Roma, al Consiglio Superiore della Magistratura in questi giorni ha sottolineato l'avvocato Franco Colucci, presidente dell'ordine, e abbiamo intessuto ulteriori trattative per capire come muoverci nei prossimi mesi. Non ci fermiamo e continuiamo a lavorare su tutti i fronti. Dopo la riforma della giustizia, 4 degli 8 tribunali abruzzesi dovevano essere chiusi entro il 2018. Si tratta degli uffici giudiziari di Arezzano, Sulmona, Vasto e Lanciano. Tuttavia i termini per l'attuazione della riforma inserita nel decreto terremoto approvato dal Consiglio dei Ministri sono stati prorogati al 2020. Dopo l'annuncio della sottosegretaria della giustizia Federica Chiavoroli di un possibile salvataggio di due sedi su quattro e le voci circolate su un accorpamento delle sedi di Vasto e Lanciano, sembra che la partita si giochi proprio tra il tribunale di Arezzano e quello di Sulmona. La questione aveva generato un acceso dibattito anche in seno alla campagna elettorale per le elezioni amministrative della città. Oggi restano dubbi su questo punto, anche se ci sono dei numeri per quanto riguarda le caratteristiche del tribunale di Arezzano per salvarlo. Riforma sostanziale della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Appello dell'Aquila per una vicenda di maltrattamenti su giovani migranti nella struttura marsica per noi che ha fatto molto clamore ad Arezzano. I giudici di secondo grado hanno assolto il professore universitario in pensione Carmine Bisceglie, 74 anni, già titolare del centro di accoglienza, e la dottoressa Benedetta Cerasani, 40 anni, reggente organizzativa dalle accuse di maltrattamenti nei confronti di due persone perché il fatto non sussiste ed Antonia Lavita, 50, una operatrice, dall'imputazione di ingiuria perché il fatto non costituisce reato. Per i tre imputati la Corte ha sentenziato il non doversi procedere per estinzione dei reati, per sopravvenuta prescrizione per le residue imputazioni, sempre per i maltrattamenti per i quali c'è stata la condanna. Sia a Bisceglie che alla Cerasani in primo grado era stata inflitta una pena di due anni e sette mesi di reclusione, oltre alla intenzione temporanea della gestione dell'attività e al pagamento dei danni. L'operatrice era stata invece assolta dall'accusa di maltrattamento e condannata a due mesi per ingiurie e percorse a sfondo razziale. Secondo l'accusa, rappresentata in tribunale dal pubblico ministero Roberto Savelli della Procura di Avezzano, i minori erano stati obbligati a svolgere gratuitamente pulizie di bagni, corridoi e lavori di ogni tipo e in caso contrario per punizione veniva loro vietato di telefonare e di tornare a casa di funzione di etere Pasquale Miro nel foro di Avezzano. Definito e concretizzato l'iterra tecnico-amministrativo per il monitoraggio, la messa in sicurezza, la gestione del rischio della frana e la conseguente apertura delle gole di Aielli Celano. A comunicarlo è il consigliere regionale Lorenzo Berardinetti che ha riunito l'assessore ai parchi e ai laurei pubblici della regione Abruzzo Donato Di Matteo, il vice sindaco di Celano Ezzo Ciciotti con i consiglieri Lisa Carusi, Barbara Marianetti, Toni Di Renzo e Vincenzo Montagliani, insieme al direttore del parco regionale Sirente Velino Oremo Di Nino, al sindaco di Aielli Enzo Di Natale e dal consigliere del Comune di Ovindoli Enrico Bonanni, proprio per fare il punto della situazione e definire un cronoprogramma che restituisca la fruibilità di una delle risorse naturalistiche più apprezzate da Abruzzo, appunto le gole di Aielli Celano, che furono chiuse nel 2010 con una ordinanza emessa a seguito di un controllo della Polizia Provinciale che rilevò una spaccatura di spuntoni di roccia su una parte del versante destro del Montettino. Massima disponibilità della regione a dare un contributo finalizzato a redigere uno specifico studio di dettaglio diretto a definire la pericolosità della frana delle gole a Ieli Celano, ha spiegato Bernardinetti. Lo studio risulta indispensabile alla successiva individuazione e progettazione di eventuali interventi strutturali di messa in sicurezza che dovranno tenere conto dell'estensione delle aree interessate dai fenomeni franosi. Il documento d'analisi sarà lo strumento fondamentale per la gestione del rischio connesso con la riapertura delle gole per la fruizione turistica in sicurezza. Le gole di Aielli Celano sono un'area di interesse internazionale. Prosegue la chiusura e causa di notevoli ripercussioni economiche sul turismo locale, oltre che di minaccia per la incolumità degli stessi visitatori. Si è rappresentata domani venerdì 27 alle ore 10 nella Sala Filomena degli Castelli della Regione Abruzzo di Viale Bovio a Pescara l'iniziativa camminata tra gli olivi promossa dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Partecipa l'assessore alle politiche agricole Dino Pepe. In Abruzzo sono 14 le Città dell'Olio che hanno aderito all'iniziativa per una passeggiata dai 2 ai 7 chilometri dedicata a famiglie ed appassionati alla scoperta del patrimonio olivico labruzzese attraverso paesaggi legati alla storia e dalla cultura dell'oro verde. Oltre alle passeggiate, le Città dell'Olio organizzano visite a frantoi e olivi secolari, degustazioni di olio e corsi di assaggio e molto altro ancora per raccontare la bontà dell'olio abruzzese e far scoprire la bellezza di tanti scenari. Sono in arrivo 13 milioni e 943 mila euro erogati dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile in favore dei comuni danneggiati dalle nevicate del gennaio scorso. I fondi a loro volta saranno utilizzati dagli stessi sindaci per il ristoro nelle spese sostenute per gli interventi di somma urgenza resi necessari dal grave stato di emergenza e dalla necessità di sgomrare le strade dalla neve. La notizia, tanto attesa dagli amministratori e dai titolari delle imprese che hanno messo a disposizione il loro spazzaneve, è stata data questa mattina dal Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, a margine dell'incontro che ha avuto a Terramo con la Commissaria straordinaria del Governo, Paola De Micheli, ai fini della ricostruzione nei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificati sia far data del 24 agosto 2016. La Commissaria è stata ricevuta dal Presidente D'Alfonso e dal Sottosegretario alla Presidenza della Regione con delega alla Protezione Civile Mario Mazzocca nei locali dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione, presenti anche i sindaci dei comuni ricadenti nel cratere. Nel corso dell'incontro, durante il quale è stato fatto il punto sullo stato di ricostruzione riferito al sisma del centro Italia, D'Alfonso ha comunicato anche che nei prossimi giorni, con la messa a disposizione da parte del Dipartimento Internazionale di Protezione Civile di 67 milioni di euro, si chiuderà definitivamente la partita dei 427 alloggi invenduti. Le attività civili e religiose programmate per il 2017 nel Santuario di Sant'Angelo a Balsorano si concluderanno domenica prossima con il programma che è stato predisposto dal Parroco della Chiesa Santissima Trinità Don Silvano Caciotti d'intesa con i responsabili della confraternita Sant'Angelo. ore 9.30 via Crucis e colazione, ore 11, ore 10, arrivo nel piazzale ed accoglienza, 10.30 recita del Rosario a Maria Santissima dello Spirito Santo e preghiera all'interno della grotta, ore 11 celebrazione della Santa Messa a cuore di padre Francesco Antoniano di Roma. Al termine atto di affidamento a San Michele e chiusura del Santuario, importante per la salvaguardia del luogo sagro, l'impegno disinteressato di tutti i membri del comitato, composto dal priore Roberto Santoro, dal prefetto della fratellanza Giorgio Tuzzi, dal cassiere Mario Norcia, dal vice cassiere Roberto Fantauzzi, dal coordinatore Antonio Tullio e dai consiglieri Tonino Fantauzzi, Filiberto Tuzzi, Celesto Tuzzi, Roberto Tullio e Giuseppe Villa. Il Santuario di Sant'Angelo, da tempo immemorabile, ospita ogni anno, all'inizio di maggio, il ritiro spirituale per solo uomini. Tantissimi di loro, provenienti anche da fuori regione, per cinque giorni si isolano dal mondo, dedicandosi solo a meditazioni e preghie. Nel corso dell'anno, da maggio a ottobre, ospita non meno di 5-6 mila persone, attratte dalla bellezza del paesaggio e dalla maestrosa grotta, dove, sin dal 1296, esisteva un monastero dell'Ordine di San Benedetto. Presentata, nel corso di una conferenza stampa d'Avezzano, la campagna informativa di sensibilizzazione sull'ictus, i particolari nel nostro servizio. Domenica prossima, con inizio alle ore 17, nei locali del Castello Orsini, colonna di Avezzano, è in programma una importante iniziativa che affronta i temi legati all'ictus. Infatti, il tema è proprio Parliamoci di Ictus, una campagna informativa di sensibilizzazione sull'ictus, perché il tempo è cervello. I particolari dell'iniziativa sono stati illustrati oggi nella sala consigliare del Comune di Avezzano. L'organizzazione è della Federazione per la lotta all'ictus cerebrale dell'Abruzzo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Avezzano. Sono intervenute alla conferenza stampa Berardino Orlandi, neurologo dell'ospedale di Avezzano, Maria Paola Giorgi, socia fondatrice dell'Alice Abruzzo Onlus e curatrice dell'evento di domenica, Mariella Venditti, socia fondatrice e rappresentante di Alice Abruzzo Onlus, Antonella Gentile, vocalist componente di Tanguedia Quartet, per l'amministrazione comunale di Avezzano, il vice sindaco Emilio Cipollone e l'assessore sociale Angela Salvatore. È stato spiegato che Alice Italia Onlus è una federazione di associazioni regionali di volontariato, sparse su tutto il territorio nazionale, oltre 80 sedi e sezioni, le quali, pur autonome e indipendenti nella propria valutità, collaborano al raggiungimento di comuni obiettivi a livello nazionale. L'oro peculiarità è quella di essere le uniche ad essere formate da persone colpite da ictus, dai loro familiari, da neurologi e medici esperti nella diagnosi e trattamento dell'ictus, medici di famiglia, fisiatri, infermieri, terapisti della riabilitazione personale, socio-sanitario e volontari. Come sentirete tra poco nella intervista, la divisione di Avezzano è all'avanguardia a livello non solo regionale, ma anche nazionale. Ascoltiamo comunque il dottor Berardino Orlandi. Dottor Orlandi, non è facile parlare di ictus? No, non è facile, anche se diciamo che oggi possiamo guardare a questo tipo di problema, che è un problema anche numericamente enorme, con uno sguardo diverso, meno negativo, meno pessimistico di quanto non si facesse fino a dieci anni fa. E questa cosa possiamo dire anche con orgoglio che nell'ambito marsicano, avezzanese, nello specifico, siamo attrezzati su questa cosa per gestirla nel migliore dei modi. Lei ha un po' anticipato la domanda che volevo farle, cioè come reparto di Avezzano siete un po' all'avanguardia, ma ci sono, secondo lei, secondo gli studi fatti, possibilità per prevenirlo? Assolutamente sì, è evidente che la prevenzione è comunque sempre il primo passo. Rientra però nel discorso generale che va fatto anche poi per la cura, e cioè o noi riusciamo a dare consapevolezza alle persone di quello che si può fare, altrimenti anche la scoperta più brillante non porta a nulla. Per cui il primo passo sono eventi di questo tipo, come quello che faremo domenica, che serve proprio a far conoscere alle persone qual è la situazione, sia in termini di cura e, ancora meglio, indubbiamente, in termini di prevenzione. Parleremo poi dell'organizzazione, ma il lavoro che poi state portando avanti all'ospedale di Avezzano? È un lavoro enorme, da tanti punti di vista. Ci vede di gran lunga come la Stroke Unit, che è la struttura di riferimento, è l'equivalente dell'unità coronarica per il cuore. La Stroke Unit è più attiva, sia in termini qualitativi e quantitativi in tutto l'Abruzzo, con delle procedure fatte a quest'anno, ad oggi, di 114 procedure. Teniamo presente che il centro, simile al nostro, che ne ha fatte di più in Abruzzo e Pescara, ne ha fatte 53. Noi siamo in grado, con alti livelli di professionalità, di garantie, di due versanti del trattamento, sia quello endovenoso, sistemico, che quello endovascolare, per via intraarteriosa, con la collaborazione che abbiamo con i colleghi della radiologia di Avezzano. Questo ci permette di avere, ormai da anni, degli altissimi numeri, sia in termini, ripeto, di qualità che di quantità, con enorme beneficio sulla popolazione, che purtroppo viene colpita da questo, che è un problema molto grande. è evidente che continuiamo a lavorare con regimi di risorse e definirli ristretti a dire poco. Devo dire che l'azienda c'è abbastanza vicino, per cui abbiamo in fieri una serie di implementazioni, a cominciare dai lavori di ristrutturazione della Strochi Uniti, previsti ormai da tanto tempo, e speriamo che prima dell'anno partano e che ci permetteranno di avere anche in termini tra virgolette di comfort per i pazienti un'assistenza in maniera diversa. Però ecco, noi con le persone che siamo stiamo facendo un lavoro enorme, diretti dal professor Carolei, che è anche presidente dell'Organizzazione Scientifica Italiana che si occupa di ICTUS e dalla Scuola di Specializzazione, che significa avere nel lavoro dei ragazzi eccezionali, sia per quello che fanno che per quanto ne fanno. Eccellente neurologo è lei, ma potrebbe essere un'ottima giornalista perché mi anticipa tutte le domande. Infatti volevo chiedergli proprio questo, c'è un reparto all'avanguardia ma che da anni si dibatte in forti criticità, ecco, quello del personale soprattutto. Insomma, cerchiamo di fare il possibile perché, insomma, i politici ascoltino un po' il vostro video d'allarme. È evidente che questo tipo di, come chiamarli, di eventi in primi si sono diretti per i pazienti e per le persone che ci stanno attorno. Il secondo obiettivo è proprio quello di sensibilizzare il livello decisionale politico a che ci consenta di lavorare in termini normali, in termini normali. Un reparto come questo, con queste eccellenze, non si riesce a tenere con tre persone strutturate che, insomma, poi alla fine non ce la fai e tenendo presente che su queste problematiche c'è bisogno dell'estrema lucidità e serenità di lavoro perché sono complesse da gestire. Noi continuiamo a rimanere, l'ultimo congresso dove sono stato che riguarda che parlava di questo è stato in Francia all'inizio di ottobre, continuiamo a rimanere con dei standard altissimi che non hanno nulla di diverso da quelli di centri che hanno, diciamo, risorse molto diverse dalle nostre. Confidiamo nella sensibilità sia delle istituzioni a cominciare dal Comune che delle istituzioni di riferimento nostra che è l'azienda a che questi processi sia la ristrutturazione della Stroke Unit che, diciamo, una implementazione dell'organico abbiano buon fine. Due mila anni fa, nel 17 d.C., moriva a Tomi sul Mar Nero in esilio il grandissimo paeta latino Ovidio nato a Sulmona nel 43 a.C. ed autore non solo di opere di poesia altissima ma della più grande opera mai dedicata alla mitologia cioè le metamorfosi in cui raccoglie e tramanda alla posterità oltre 250 miti di tutte le culture del mondo antico un testo di importanza fondamentale in sé e per gli afflussi che ha esercitato nella storia nella letteratura di tutti i tempi nell'ambito delle celebrazioni che l'Abruzzo dedica al suo paeta nel bimillenario della morte con una significativa iniziativa congiunta la Camerata Musicale Sulmonese l'Istituzione Sinfonica Abruzzese e l'Associazione Musicale Feneroli ente musicale Frentano di Lanciano presentano nelle rispettive stagioni concertistiche un prestigioso programma sinfonico dedicato ad Ovidio venerdì 27 ottobre alle 21 presso il Teatro Fenaroli di Lanciano sabato 28 ottobre alle 18 presso il ridotto del Teatro Comunale Antonellini dell'Aquila e domenica 29 ottobre alle 17.30 presso il Teatro Mediacaniglia di Sulmone un'iniziativa condivisa da tre enti musicali abruzzesi che si fa promotrice per eventi di grande spirito culturale che promuovono il patrimonio artistico della nostra regione come il biminalario ovidiano di importanti programmi di collaborazione a livello regionale è quanto dichiara Gaetano Di Bacco direttore artistico della Camerata Sulmonese Luisa Player direttore artistico dell'istituzione sinfonica bruzzese ed Omar Clocetti suo intendente Fenaroli di Lanciano gli alunni che condividono il progetto della lingua francese promosso dal liceo Benedetto Croce di Avezzano sono stati ricevuti nella sala consigliare del Cune di Avezzano dall'assessore Guido Gatti gli studenti coinvolti nel progetto Erasmus più K2 di lingua francese del liceo Benedetto Croce di Avezzano e quelli provenienti dalla Spagna e dalla Germania sono stati ricevuti nella sala consigliare del Cune di Avezzano dall'assessore Guido Gatti assente il dirigente scolastico del Benedetto Croce Rossella Rodrigo rappresentata dal suo vice Gigliola Ciaccio hanno partecipato le insegnanti referenti del progetto e gli studenti spagnoli 12 più 2 docenti e tedeschi 11 più 2 docenti l'assessore Gatti a suo agio in quanto padrone della lingua inglese ha salutato gli ospiti a nome del sindaco e dell'intera città augurando un soggiorno ottimale e successi per l'iniziativa promossa dal liceo Benedetto Croce il tema del viaggio e dell'incontro con l'altro in una comunicazione in lingua francese è stato il filo conduttore che ha unito gli alunni della classe quarta L ESA BAC del liceo linguistico Benedetto Croce di Avezzano ai loro corrispondenti spagnoli dell'IS Virginia del Carmen in Andalusia e tedeschi del liceo di Obrick a 25 km da Strasburgo il progetto fortemente sostenuto dalla dirigente scolastica Rossella Roderigo vede impegnata come detto la classe del Croce in varie attività didattiche culturali intorno al tema del viaggio e dell'incontro con l'altro il tutto fortemente sostenuto come abbiamo detto dalla dottoressa Rossella Roderigo ha affrontato altresì il tema dei migranti e della crisi dei rifugiati attraverso il confronto di letture ed analisi di romanzi poesie e testi di canzoni condivise durante le tre modalità previste e sulla piattaforma di Quing come previsto dal progetto gli alunni di Alcroce sono stati ospiti nelle famiglie dei loro corrispondenti a Jeanne dal 5 al 12 febbraio 2017 per la prima mobilità accompagnati dalle docenti Castellani e Pellicetti hanno lavorato su romanzi che trattano il tema del viaggio per ritrovare le proprie radici e hanno avuto l'occasione di visitare Cordoba e la sua moschea cattedrale Granada e la sua celebre Lambra e sono stati ricevuti dal sindaco di Jeanne dal vicepresidente della regione la seconda fase vede la mobilità in Italia quindi l'incontro tra gli alunni dei tre licei Benedetto Croce dal 22 al 28 12 spagnoli come detto più due docenti 11 alunni e due docenti tedeschi gli alunni sono stati ospitati presso le famiglie degli alunni marsicani anche per la condivisione linguistica e culturale questi gli alunni della quarta che hanno partecipato al progetto Valeria Caputi Paola Cesareo Eleonora Di Clavio Giorgio Di Genova Giovanni Dragomir Sorion Chiara Fidanza Angeli Gaffinucci Eleonora Iommi Virginia Leoni Beatrice Lolli Santori Axandra Vincenzo Mazzei Cristina Morgante Eva Pisegna Erika Ranalli Michela Rechiuti Giulia Ruscio Carmen Tamas Alessandra Venditti Adalina Wultrau oltre alle interviste con il dirigente scolastico Gideola Ciaccio e l'assessore Guido Gatti Grazie alla disponibilità della professoressa Gideola Ciaccio in sostituzione della dirigente scolastica un progetto importante per la vostra scuola è la prima volta che tantissimi ragazzi di tre nazioni si ritrovano qui ad Avezzano Sì veramente è un bellissimo progetto ringraziamo intanto la dirigente scolastico la professoressa Rossella Rodorigo che ci ha dato l'opportunità di vivere queste esperienze nonché la professoressa Giselle Castellani che è la nostra docente di francese che effettivamente è stata quasi la fautrice questo Erasmus ci ha dato veramente tante difficoltà perché è un progetto che unendo tante nazioni effettivamente sono anche difficoltà di carattere tecnico di carattere linguistico eccetera però ci ha dato veramente tante soddisfazioni soprattutto vogliamo ringraziare le famiglie dei nostri alunni che hanno accolto così calorosamente gli alunni stranieri questo vuol dire che la Marsica si sta evolvendo è il nostro che è un liceo linguistico l'unico liceo linguistico di ordinamento della provincia dell'Aquila ci fa veramente onore che questi ragazzi vengano ripetutamente perché non è neanche la prima volta che li accogliamo nello spirito dell'Erasmus ha anticipato un po' la domanda della disponibilità delle famiglie sì sì sicuramente sì questo in effetti loro fanno uno scambio sono stati già nelle altre nazioni e adesso hanno accolto questi ragazzi qui i ragazzi sono veramente soddisfatti perché hanno trovato una cucina straordinaria un caloroso ambiente da parte dei nostri ragazzi da parte delle famiglie nonché grazie a Dio anche il tempo ci è stato favorevole quindi veramente una bella esperienza proseguirete come scuola su questa linea sì sicuramente vorremmo proseguire sperando che ci siano fondi perché voi sapete che la scuola più di tanto non può concedere se riusciamo ad ottenere fondi con i progetti europei che bene vengano degli altri noi siamo a disposizione grazie Assessore Gatti intanto prima di qualche domanda ti sei trovato a tuo agio insomma mi sono trovato a mio agio perché c'è un liceo linguistico tutti i liceali linguistici ed ho pensato che parlare inglese poteva essere un modo per evitare di tradurre dall'italiano al francese indietro mi sono trovato a mio agio perché poi con i giovani ci si trova sempre molto bene fanno sempre molta atmosfera fanno caciara come a scuola per quanto riguarda invece il coinvolgimento del comune credo che sia un motivo di soddisfazione per voi aver ospitato una trentina di ragazzi espressione di altre nazioni assolutamente sì anche perché crediamo come tutti al fatto che questi scambi culturali arricchiscano i giovani che li fanno e quindi la città una cosa importante che ho imparato oggi che ho capito che non solo c'è uno scambio culturale ma utilizzano per studiare una piattaforma di e-learning che è un modo di imparare nuovo che sarà probabilmente molto più frequente nel futuro e che dovremmo considerare sì dobbiamo ritenere sono fortunati i ragazzi di oggi soprattutto gli studenti hanno queste opportunità con l'Erasmus naturalmente l'Erasmus forse esiste da un po' di tempo però vedo che negli ultimi anni moltissimi dei ragazzi della nostra città partecipano a progetti come questo l'Erasmus o altri progetti simili sicuramente questa cosa ci arricchisce non ci sono dubbi il primo incontro pubblico il vice del sindaco il primo incontro pubblico il vice del sindaco sì beh una volta ho fatto una processione ma non è la stessa cosa buon lavoro per il futuro grazie nulla è stato fatto e nulla verrà fatto nell'immediato per risolvere le tante criticità ancora presenti in Abruzza siamo a due mesi dall'inizio della stagione invernale e oggi denunciamo oltre alla forte preoccupazione delle tante emergenze ancora risolte sui nostri territori come in maniera disinvolta il presidente D'Alfonso continui a proclamare e propagandare gli ennesimi annunci vuoti iludendo sia gli amministratori sia i cittadini poiché ad oggi vi sono solo provvedimenti vuoti dove i fondi sono irrisori ed ancora più grave non imminenti ormai è palese come D'Alfonso sia in piena campagna elettorale e si trovi nella fase in cui ha le dichiarazioni che seguono i fatti ma solo ed esclusivamente promesse e quanto hanno dichiarato i consiglieri regionali di Forza Italia Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo durante la conferenza stampa di questa mattina a Pescara e nei questi ultimi giorni sottolineano Sospiri e Febbo abbiamo ripetutamente letto ed ascoltato la pioggia di milioni di euro che da qui a poco dovrebbero arrivare in Abruzza dopo un'attenta lettura delle delibere approvate e dei relativi atti ci accorgiamo che ci troviamo di fatto di fronte al solito blef d'Alfonsiano trasformato in una bella reclam piena di parole e promesse alla quale non corrispondono né la sostanza né gli stanziamenti promessi la Gallo Costruzioni si è giudicata i lavori per la costruzione della nuova scuola a cerchio a breve inizieranno i lavori hanno commentato i consiglieri comunali Fabrizio Cimmino e Cristian Continenza con fatica si va avanti ma è straordinario portare a termine il municipio per i quali ci stiamo impegnando al massimo e la scuola nuova opere che resteranno per sempre nella storia del nostro bellissimo paese il nuovo edificio scolastico della cittadina marsicana si svilupperà su 650 metri quadrati struttura completamente antisismica più una palestra il tutto è previsto in un solo piano e sorgerà in località Giardino un lavoro finanziato completamente con fondi del comune senza contributi esterni questo fatto ha indotto l'amministrazione del sindaco Gianfranco Tedeschi a dirottare i soldi su opere considerate prioritarie per il paese l'edificio ospiterale scuole alimentari e materne si è tenuta in regione oggi l'audizione in quinta commissione affari sociali e tutela della salute a seguito della richiesta inoltratta dalla CGL Funzione Pubblica e dalla CGL Medici in merito alle croniche carenze di personale di tutte le quattro ASL provinciali carenze che comportano a livello regionale sospensioni e accorpamenti di reparto mancato rispetto dei riposi obbligatori per il personale turnista mancato rispetto delle mansioni relative alla categoria professionale di appartenenza e peggioramento degli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate nel corso di audizione la CGL ha illustrato le enormi criticità presenti che da tempo sono state evidenziate per le quali non è più procrastinabile un rinvio della discussione in quanto la complessiva situazione ha ormai generato il collasso del sistema sanitario regionale a tal proposito basti pensare che nella ASL Avezzano su Monalacuila si riscontra una carenza di personale stimabile in oltre 630 lavoratori nel corso della discussione è emerso che per quanto concerne la stesura delle mie guida da parte dell'assessorato l'indirizzo assunto della regione potrebbe mettere a rischio il posto di lavoro di centinaia di precari attualmente in servizio nelle quattro ASL la quinta commissione ha assunto l'impegno di riconvocare i presenti ad una prossima riunione alla presenza anche dell'assessore della sanità della regione CGL Abruzzo CGL Funzione Pubblica e CGL Medici in carenza di azioni concrete volte alla soluzione di questi grandi problemi comunicano sin da ora che attiveranno ogni forma di protesta ed ogni iniziativa di lotta a difesa del diritto del lavoro e dalla retribuzione del personale bene abbiamo terminato prima di saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antennaduetv.it o sulla nostra pagina facebook Antenna2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i 20 servizi che Antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie dell'attenzione a risentirci www.antennna2.com Grazie a tutti